vabbè ma daniele guarda che sei in video cioè ti sta dando merda miano in fresca maestro 5 e mezzo sei il migliore fino adesso di quelli che ho visto dici seguiamo le tracce ok seguo le tracce ma mi tengo a sinistra perfetto bravo mauro dita gli a uno Luca ma tu come fai a farli devo tenerli vicini i piedi o no? a tanto così grazie a tutti